Amici e amici ben ritrovati su Rossini TV, oggi siamo a Mondolfo, siamo all'interno del complesso museale di Sant'Agostino dove la Confcommercio Marche Nord sta festeggiando i 40 anni della sua principale iniziativa, quella dei weekend gastronomici. Ospite attesissimo Edoardo Raspelli. In questa iniziativa che appunto è la più longeva della ragione Marche per quanto riguarda la promozione dell'enogastronomia in questa edizione primaverile dei 40 anni si sta dimostrando veramente una manifestazione di grande successo. Tutti i ristoranti sino ad oggi hanno triplicato le presenze rispetto all'anno scorso a dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno, che i weekend gastronomici sono una manifestazione molto attesa dai consumatori e dagli stessi ristoratori, una manifestazione di successo per la quale noi abbiamo voluto quest'anno un po' strafare e quindi dedicare molta attenzione ai ristoratori sia con il premio, l'Oscar della ristorazione che è stato dato a Rolando Ramoscelli, consegnato a Rolando Ramoscelli, sia con questo confronto con uno dei padri della critica enogastronomica italiana che è Edoardo Raspelli, l'inventore delle 3T, territori e tradizioni che sono gli elementi su cui si basano i weekend gastronomici. Edoardo Raspelli, lei si definisce un cronista della gastronomia? Sì, io ho fatto 10 anni di cronaca, poi il direttore dell'edizione Polizio Corriere della Sera, sia con le informazioni, Cesare Lanza, mi dice tu che ti piace cucinare, non cucinare, ma ti piace mangiare, che racconti i ristoranti tra di noi così intanto con tanta passione, ma perché non gli racconto i giornali? Però voglio anche i ristoranti cattivi e quando io ho cominciato nel 75, ahimè, in Italia si mangiava molto male. Io però al di là dei piatti, buono che devi che fosse, raccontavo le atmosfere, ma ancora adesso, no? I piatti che io maggio in ristorante li relego nelle ultime righe, perché tanto io magari un ristorante l'ho provato due mesi prima, faceva freddo e poi fa caldo, cambia la stagione e quindi cambiano i piatti. Però rimane da cronista, rimane la difficoltà o la facilità di parcheggio, rimane l'atmosfera, rimane la carta dei vini e se ha dei buchi oppure no, insomma, quindi racconto da cronista. Quello che io, non sono la Corte di Cassazione, non sono neanche la Corte d'Appello, sono un tribunale ma neanche, sono uno che dà il mio parere, ovviamente valorizzato dal fatto che lo faccio dal 1975.